Ragazzi buongiorno, continuiamo oggi la lezione su Hume che abbiamo iniziato la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo detto che Hume è un empirista, cioè ritiene che la conoscenza derivi solo ed esclusivamente dall'esperienza. Ora voglio che vi segnate questo termine tecnico molto importante che è gnoseologia. Gnoseologia è quella branca della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda come facciamo noi a conoscere le cose, quali sono le condizioni che rendono possibile la conoscenza delle cose. L'insieme delle risposte a questa domanda costituisce ciò che si chiama gnoseologia. Abbiamo già detto che Hume, la risposta che dà Hume a questa domanda è quella empirista, e cioè la conoscenza deriva soltanto dall'esperienza. Ma Hume non è importante solo per la gnoseologia, è importante anche per l'etica e la morale, è anzi uno dei principali autori dei cosiddetti moralisti del settecento filosofico e di quel movimento che si chiama illuminismo, e di cui inizieremo oggi a parlare. Dal punto di vista etico e morale, Hume si ricollega a ciò che pensa dal punto di vista gnoseologico, ovviamente perché il pensiero è sempre uno. Così come, dice Hume, l'unico modo che abbiamo noi di conoscere le cose è l'esperienza, anche l'unico modo che abbiamo di conoscere ciò che è giusto e sbagliato, ciò che vale e non vale, cioè l'unico modo di conoscere i valori morali, è sempre l'esperienza. Questo è il punto fondamentale. L'empilismo di Hume ha un riflesso fondamentale anche sul piano etico, cioè, e quindi anche il bene e il male si conoscono tramite l'esperienza. Ma quale può essere questa esperienza? Perché io posso vedere che qui davanti c'è un libro bianco, perché lo vedo, ne faccio esperienza, ma il bene e il male sono concetti assai più sfuggenti e sui quali è molto più difficile parlare di esperienza. Qual è il tipo di esperienza che noi facciamo del bene e del male? Deve essere un'esperienza che ci colpisce direttamente nel corpo, altrimenti è un'esperienza, così come la luce solare ci colpisce direttamente negli occhi, ed è innegabile che ci sia, ci colpisce negli organi di senso, anche l'esperienza morale deve essere qualcosa che ci colpisce direttamente nel corpo senza dover essere oggetto di ragionamento o di discussione, deve essere indiscutibile, altrimenti non sarebbe esperienza. Esperienza, per definizione, è una cosa che o c'è o non c'è, non è oggetto di discussione e non dà adito a dubbi. Bene, questo strumento del nostro corpo che ci permette di fare esperienza del bene e del male, per Hume è il sentimento morale, il sentimento morale di simpatia. Cosa vuol dire? Vuol dire che per Hume e in generale, per tutto l'illuminismo inglese, ci sono anche altri autori che vedremo, noi nel nostro corpo abbiamo un senso, così come abbiamo la vista, l'unito e gli altri sensi, abbiamo un senso morale il quale ci permette di accorgerci in modo istintivo e in modo corporeo, senza ragionamento e senza discussione, della differenza tra il bene e il male. Questa è la soluzione generalmente data dall'illuminismo inglese al problema del fondamento di tutte le scienze morali. Che cosa vuol dire simpatia? È una parola inglese, sympathy è una parola inglese che in italiano si traduce come simpatia, ma in realtà sympathy vuol dire qualcosa come empatia, vuol dire il partecipare noi alle sofferenze, ai dolori, alle gioie e alle aspettative degli altri. Sympathy significa che ciascuno di noi sente tutti, chi più chi meno, nel proprio corpo, senza dover ragionarci sopra, che cosa è bene e che cosa è male non solo per se stessi ma anche per il prossimo, ed è qualcosa che è innato, perché è una forma automatica di esperienza, non ha bisogno di essere discusso né ragionato. Non c'è alcun bisogno quindi di ragionarci sopra. La simpatia morale è il fondamento per Hume dell'idea che noi abbiamo di bene e male. Ma la simpatia morale non è qualcosa che si applica soltanto al singolo, è molto facile che io capisca cosa è bene e male per me. La simpatia morale è qualcosa che si applica alla collettività, ovvero è un sentimento che ci permette di capire che cosa è bene e male per il prossimo. Quindi, principio fondamentale numero uno della etica chiumiana, e in generale dell'etica dell'illuminismo inglese, è occorre fare, bisogna fare, è necessario fare, è bene fare, ciò che il nostro senso morale ci presenta, la nostra sympathy ci presenta, come il bene collettivo, il bene di tutti, il bene del prossimo. Questo è il principio numero uno dell'etica chiumiana. Avrete già visto e capito che questo tipo di morale è molto diversa da quella, per esempio, aristotelica che diceva a ciascuno di noi come doveva comportarsi per essere un uomo ben riuscito, ben fatto. Perché questo tipo di morale tiene conto degli altri, tiene conto delle aspettative del bene e male degli altri, tiene conto, cioè, di quello che si chiama l'utile, l'utilità. Il bene e il male che facciamo sono tali non perché li sentiamo noi come bene o male come individui, ma perché li sente la collettività come bene o male, appunto, a livello collettivo. Cioè, la collettività, grazie al bene che facciamo, starà meglio. Questo si chiama l'utile della comunità, e quindi questo tipo di morale, altro termine tecnico che vi dovete segnare, si chiama utilitarismo. Definizione di utilitarismo, teoria etica, che pone l'utile sociale, cioè il bene collettivo della società, come valore numero uno che l'etica e la morale devono conseguire. Come si conquista questo senso morale? Gli empiristi pensano che tutto deriva dall'esperienza, quindi un bambino appena nato esperienza non ne ha, quindi non ce lo può ancora avere questo senso morale. Non è innato. Si costruisce, si crea socialmente, tramite l'abitudine e tramite l'educazione. un bambino che nasce e subito, non appena come cresce, viene introdotto in una serie di relazioni sociali. Queste relazioni sociali lo abituano a distinguere certe cose che si fanno da altre che non si fanno, e tramite l'abitudine, tramite il senso di appropriatezza, alcune cose si fanno, sono appropriate, altre no, tramite l'abitudine e il senso di appropriatezza, il bambino introietterà, cioè farà suo, questo senso morale di simpatia, che viene quindi costruito nella società. Quindi il senso morale non solo è finalizzato al bene della società, utilitarismo, ma è anche costruito socialmente tramite l'abitudine. Stiamo di fronte quindi a un'etica che non è del soddisfacimento morale dell'individuo, ma è un'etica del soddisfacimento morale e pratico della collettività. Insomma, l'etica è roba che ha a che fare con la società più che con l'individuo. L'etica è sociale. E questo è un altro punto forte, punto chiave dell'illuminismo inglese. Diciamo cos'è l'illuminismo. L'illuminismo in generale è quel movimento filosofico che si afferma nel Settecento in Europa e che si sviluppa in parallelo con lo sviluppo della scienza e in particolare con lo sviluppo della scienza newtoniana. Newton, Isaac Newton, fondamentale scienziato e anche filosofo inglese, vissuto tra Settecento e Settecento, fondatore di quella che si chiama la fisica moderna. In parallelo quindi alla scienza si sviluppa l'illuminismo che traduce il linguaggio della scienza anche nel campo morale ed è esattamente quello che fa Hume, quello che fa l'illuminismo inglese. In un certo modo poi vedremo che l'illuminismo francese segue un'altra via. L'illuminismo inglese che cosa fa? Prende la base, il fondamento della scienza che è l'esperienza, lo traduce in termini morali, cioè non solo per conoscere le leggi della fisica bisogna fare esperienza, ma anche per conoscere cosa dobbiamo fare, bisogna fare esperienza e subire un'educazione sociale. e inoltre il bene e il male stesso sono cose che si possano oggettivamente e socialmente verificare, cioè che cosa sia bene e che cosa sia male ce lo dice la società e ce lo dice la società secondo un parametro obiettivo che è il suo utile. Quest'idea, discussa per tutto il Settecento da diversi filosofi come Adam Ferguson e come Hutchison e Mandville, porterà verso la fine del secolo, nella seconda metà del secolo, al pensiero di Adam Smith, che è un autore che abbiamo già incontrato parlando di storia e parlando dell'economia, perché Adam Smith è il fondatore dell'economia moderna, il quale dal punto di vista filosofico ci dice una cosa che esistono Adam Smith ci dice che esistono delle leggi economiche come il principio della domanda e dell'offerta che se seguite permettono all'economia di svilupparsi. Voi direte cosa c'entra? C'entra questo, c'entra così. Così come secondo Hume esiste una legge sociale unica che è quella dell'utile di tutti, l'utilitarismo, che stabilisce che cosa è bene e che cosa è male una legge sociale non una mia opinione su cosa è bene e male e neanche un mio ragionamento su che cosa è bene e male ma proprio una legge sociale che è lì, c'è prima di me ed è sociale e non mia. Così come c'è questo c'è in campo economico un'altra legge economica che mi dice che ci si comporta in un certo modo se si vuole che l'economia prosperi e se non seguo queste regole volente o nolente l'economia non prospera io diventerò povero. In comune queste due visioni morale ed economica hanno il fatto che dipendono da leggi che sono universali, oggettive, sociali e non dipendono da noi. Adam Smith sosteneva diceva che esiste una sorta di mano invisibile che governa l'economia la mano invisibile è una regola universale oggettiva scientifica che nessuno può modificare è una legge scientifica noi dobbiamo conformarci a quella legge scientifica se vogliamo che l'economia vada bene allo stesso modo in campo morale secondo David Kume esistono dei sentimenti morali che sono oggettivi che ci vengono dati dalla società e che servono al bene della società ugualmente noi se vogliamo comportarci bene dobbiamo obbedire a questi a questi sentimenti sociali la morale quindi dell'illuminismo inglese è sociale utilitaristica basata sull'esperienza basata sul sentimento morale finalizzata alla prosperità non solo spirituale ma soprattutto economica della società insomma un tipo di morale adatta a quei tempi che erano i tempi dello sviluppo della borghesia che stava arricchendosi stava iniziando la rivoluzione industriale e la stava iniziando in parallelo con lo sviluppo della scienza sono tutte cose che si sviluppano nel settecento insieme la scienza la rivoluzione industriale l'arricchimento della borghesia è un nuovo tipo di morale che si basa non più sul ragionamento ma sull'obbedienza a leggi che sono scientifiche e che ci vengono nemmeno imposte perché sono tali che nessuno le può violare neanche volendo sono leggi sociali questo è il principio della morale dell'illuminismo inglese parleremo in seguito dell'illuminismo francese grazie e arrivederci grazie grazie a tutti